Valerio, intanto benvenuto. Ben trovati. Ben trovato. Vado? No. Introduci ciò che stai per raccontarci. Io personalmente? Ma sì, farlo tu, faccio io? E fai tu, eh. Faccio io. Allora Valerio Aprea, per la prima volta sul palco di Propaganda Live, sta per eseguire un inedito di Mattia Torre. L'Italia è questo paese pieno di colline verdeggianti e città d'arte, eccetera, dove in una certa fase di sviluppo si poteva decidere se puntare sui mezzi di trasporto pubblico, sulle biciclette o sulle macchine e alla fine noi si è optato, diciamo, abbastanza per le macchine. Che l'Italia, ora bisogna rimanere un momento concentrati, è al sesto posto al mondo come tasso di motorizzazione con 39 milioni di macchine, ossia 650 macchine per 1000 abitanti. E qui veniamo al punto, e cioè ci sono 650 macchine su 1000 abitanti, tenendo presente che sugli stessi 1000 abitanti 300 hanno più di 60 anni. Vecchi, al volante. E triangolare i dati dà un brivido perché ne emerge una giungla d'asfalto, una città dei rincoglioniti, è un traffico pericolosissimo. Che in Italia c'è il traffico, a Milano, a Torino, a Pienza c'è il traffico, a Roma c'è il traffico. Che io nel traffico posso dire di esserci nato e cresciuto, poiché ho alle spalle 30 anni di esperienza nel traffico e quando scendo in strada questi 30 anni ebbene li sento e li faccio sentire, li sento e li faccio pesare. E cioè come un adulto maori affronta le asprezze della foresta, ogni giorno io mi inoltro per dire sul muro torto col mio SH-150. E cioè con cognizione di causa, col valore dell'esperienza nella giungla d'asfalto. Che la vita nel traffico di Roma a certe giornate è una specie di continua esplosione di nervosismo, la temperatura è altissima, il furore è alle stelle. Che nel traffico si vive ma si può anche morire. Astruzzo. Puoi sentire per dire, come frase per esempio, a testa di cazzo, io t'ammazzo. Oppure ma io t'ammazzo. Cioè col ma avversativo. Come a dire, sarebbe pure tutto regolamentato in teoria, semafori, incroci, precedenze, divieti. Ma io me ne sbatto di tutte queste leggi, io t'ammazzo. Perché si può anche morire nel traffico. Si può morire in un incidente. Si può morire percuotendosi a vicenda con un altro automobilista. E si può morire come se muore in genere. Cioè che un attimo prima eri vivo e un attimo dopo sei morto e in quanto appunto sei deceduto. Coltivando quindi nel frattempo, negli anni, quel senso di morte che hanno i toreri. Quando stai per iniziare in strada, nel traffico, una parte di te pensa come toreri, come i poliziotti. Oggi potrei rimetterci le penne. E infatti al semaforo ci si guarda e inconsciamente si pensa, oh, siamo ancora vivi. Eh vai, eh sì. Ma subito dopo, che te vangare là, c'è una mandra dei cavalli sotto le chiappe. E tuttavia il traffico è anche espressione di codici morali, di regole, leggi. Lo Stato ha proposto delle leggi, cioè le ha proposte. Molte non sono state accolte. Piuttosto sono state accettate una serie di consuetudini, un'animamente condivise. E poi ognuno ha elaborato un proprio sinistro e pericolosissimo codice, diciamo samurai. Ognuno ha il proprio. E fammi passare, no? E che te costa? Sto pezzo che merda. Il traffico è libertà di pensiero. Ognuno ha una sua idea. Il traffico è anarchia. Il traffico è la vera democrazia. Che in Africa il bambino nasce, cresce in un villaggio che sta a due ore da una sorgente, eccetera. E io invece sono nato e cresciuto in strade tipo via Gola di Rienzo, per dire. O sul lungotevere, che il lungotevere, sabato sera, hanno scoperto di recente che si vede anche dalla luna. Ossia che prima si pensava che la muraglia cinese si vedesse dalla luna. Invece non è vero. L'unica cosa creata dall'uomo visibile a occhio nudo dalla luna è il lungotevere, sabato sera. E in molti, infatti, sostengono che l'uomo sia nato per vivere nel traffico e che il buon Dio ci abbia creati per misurarci con Viale Marconi. Ossia che queste migliaia di anni di storia che abbiamo alle spalle siano solo una fase, diciamo, costituente della vera, fondamentale, prova che è il raccordo anulare alle 19 di un qualsiasi mercoledì. Che io sono uno di quelli che fanno dei piccoli balzi in avanti per stressare quello in fila avanti a me. Il mio sogno erotico è troppo di colpirlo. Perché io nella vita sociale devo rispondere all'etichetta di intellettuale, di sinistra, viceversa nel traffico. Sono animale. Io, quando avevo 14 anni, mi serviva di truccare il motorino che allora era un ciao, detto ciaetto per la sua speciale agilità. Andava a 44 km orari, ma si narrava potesse arrivare a 100. E per farlo sono andato da mia madre, che è sempre stata sognatrice, pittrice, e le ho detto Mamma, voglio modificare il motorino per renderlo siediti ecologico. E mi servono tre piotte per la causa. E poiché eravamo negli anni Ottanta e il pianeta godeva ancora di una salute, diciamo, scoppiettante, mia madre pensò che io fossi un visionario, un piccolo Cristo Obamiano lungimirante di rara sensibilità. E allora mi diede i soldi e mi disse Tieni figlio, trucca il motorino per renderlo ecologico. E ne venne fuori questo motorino che lei credeva appunto ecologico e che invece era potente, rumoroso e ultra inquinante, ma rumoroso di un rumore mamma che è il prezzo da pagare per salvare il pianeta. E così potei scorrazzare con la mia proma attacco a cerniera e il 65 euro cilindro dai travasi molto grandi e prestazioni da brivido. È il miglior GT prodotto per ciao di diametro 43, sicuramente batte senza problemi i GT Polini Molossi da 75, estrema facilità di montaggio, si può montare sia su carter originali sia su carter di altre marche, materiale alluminio, quindi molto più potente, diametro 43, spinotto 10, scarico 22 e carburatore 16 a ben 80 all'ora con un peso di chilogrammi 79, ossia una specie di missile. E io pinnavo, pinnavo e pinnare, ossia percorrere con una ruota sola la maggiore distanza possibile traguardo ultimo corso Francia su una ruota che feci una fredda e assolata domenica di febbraio, era l'obiettivo della mia vita. Ed ero così contento di poter uscire di casa e andare in motorino che un paio di volte scendendo le scale troppo veloce mi sono rotto una caviglia, sentirsi vivi era e c'erano quelli che non sapevano pinnare e io invece sapevo pinnare. Quelli che per mille motivi tra cui il buonsenso non pinnavano e io invece pinnavo e mai mi è sfiorata la paura di capputtarmi che se adesso penso a quella roba mi devo proprio sedere mi viene il mal di testa dalla paura e invece allora io me ne fottevo e pinnavo gli occhi al cielo come un vero sognatore figlio di pittrice sognatrice. Vara e ragazzi! Grazie a tutti.